buonasera cari lettori di acbanninsardi.com innanzitutto prima di iniziare voglio rivolgere un caro saluto al nostro youtuber Giuseppe che oggi per motivi personali non è riuscito a fare il video e allora eccomi qua prima di iniziare vi chiedo innanzitutto il like al video un commento se vi è più aiuto o meno e perché no un commento dove magari richiedete un argomento di cui vi farebbe piacere sentirvi parlare o analizzare qualche giocatore di cui il Mian sta seguendo lo scenario che vedete è un campo di calcio di un piccolo paesino in provincia di Agringento come vedete è un campo di terra abbattuta dove è appena smesso di piovere e ci sono le pozzanghere campo che ho calpestato per diversi anni e mi trovo qui perché vorrei parlare di una questione questo video vi vorrei parlare di una questione che mi sta abbastanza a cuore e cioè i procuratori e precisamente l'atteggiamento di Paolo Maldini e della società AC Milan nei loro confronti perché questo scenario? perché vengo da un calcio dilettantistico un calcio dove per giocare per il piacere di divertirsi e di praticare questo sport non si badavano a spese certo discorso diverso loro lo fanno per mestiere loro ci guadagnano ma tutto penso ci sia un limite e questo limite penso che il Milan nella persona di Paolo Maldini grande capitano e grande bandiera della storia del Milan ma di tutto lo sport di tutto il calcio nazionale e internazionale abbia posto dei limiti seguendo una strada che personalmente trovo abbastanza corretta stop alle richieste assurde dei procuratori stop alle minacce che i procuratori fanno nei confronti della società sembra che ormai il calciatore quando firmi il contratto non lo firmi più con la società ma lo firmi con il procuratore di cui questo non è totalmente proprietario sappiamo benissimo che non è così sappiamo benissimo che i procuratori di questa situazione di questa secondo me mancanza di legge mancanza di limiti che esiste in Italia ne stanno approfittando e anche parecchio ebbene io da questo punto di vista sto dalla parte della società sto dalla parte di Paolo Maldini sto dalla parte di tutte quelle società che cercheranno seguendo il modello Maldini modello Milan di non farsi ricattare tra virgolette dai procuratori vedi donna Roma Maldini ha fatto la sua offerta la sua massima offerta non è stata accettata e allora lì c'è la porta caro caro donna Roma portalo via non ci sono problemi così come sta facendo con Chessy che a quanto pare a Tangana il suo procuratore ad ogni incontro chiede sempre più il Milan ha alzato la sua offerta penso sia la massima 6.5 più bonus a Tangana è passato a richiedere notte e mezzo a 9 bene se si troverà il punto di incontro che ben rimanca che sì che è un gran centrocampista lo sta dimostrando l'ho dimostrato l'anno scorso e anche se non ha iniziato come ha terminato l'anno comunque è uno che mette impegno in campo tecnicamente e tatticamente è fondamentale per un centrocampo soprattutto quello giovane come quello del Milan guarda Gianranoglo che per 500.000 euro è passato dall'altra sponda di Milano che non so manco che colori abbiano quelli là che dire vede i Romagnoli poi c'è gente come Romagnoli che dice chiaramente al suo procuratore Raiola tra l'altro uno dei più grandi procuratori per il suo mestiere dice io voglio rimanere al Milan con te o senza di te se tu mi vuoi ancora tratta con il Milan altrimenti anche per te lì c'è la porta mi tratto il rinnovo da solo poi ci sono i vari sandrotonani che pur di agevolare la trattativa con il Milan si dimezzano lo stipendio e noi gente di paese gente amante dello sport noi tifosi che purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di seguire il loro percorso che magari molti di noi sognavano partendo dai campi di tarrabbattuta come questo fino ad arrivare a livelli alti quindi giocare in Serie A come la storia di Messias ad esempio però noi tifosi noi gente che amiamo il calcio gente che seguiamo lo sport per passione e che lo seguiamo veramente per passione con sacrificio di tempo e di denaro ci piacciono giocatori ci piace gente come Maldini che pone limiti ai ricatti dei procuratori ci piace gente come Romagnoli che pur di rimanere almeno sta dimostrando di essere attaccato alla maglia poi non si sa se il rinnovo andrà a buon fine o meno io personalmente spero di sì che pur di rimanere al Minan ha accettato le scelte di Pioli quindi è passato ad essere il capitano in campo ad essere una riserva perché comunque non ha davanti Tomori e Kier in questo momento sono insostituibili gente come Tonali che decide di abbassarsi lo stipendio per agevolare la trattativa con Gerlino gente come Davide Calabria che dimostra con i fatti gente che dimostra con i fatti l'attaccamento alla maglia e che vuole rimanere a giocare nel Milan comunque stiamo parlando di una delle società più gloriose nel mondo non vogliamo non accettiamo più gente come Gianna Loglu che per pochi spiccioli passa la trasponta di Milano non accettiamo gente come Donna Roma che a parole ha dimostrato sempre ha dichiarato sempre di essere sin da piccolo un tifoso del mio ma al momento di dimostrarlo con i fatti è scappato via lasciandosi abbindolare dal Dio Denaro lasciandosi convincere dal suo procuratore Raiola non so il motivo lo saprà lui e chi per lui ma a noi ci piace gente umile gente che scende in campo dall'anima gente che con il suo mestiere ci fa ritornare ad appassionarci ad un calcio che per molto tempo e forse lo è ancora è solo un calcio di business fatto di business poca passione poco attaccamento alle maglie poca credibilità nella passione dello sport in quello che effettivamente lo sport dovrebbe essere quindi che benvenga gente come Sandrino come Davide come Alessio detto ciò vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social che troverete qui sotto ricordo di lasciare di nuovo un like al video di commentarlo e di seguire il nostro sito internet www.acmilaninsight.com grazie per l'attenzione una buona giornata a tutti sempre Forza Milan